Ciao ragazzi bentornati con le ricette dell'amore vero, io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi la videoricetta degli scones i piccoli panini dolci a limitazione veloce dal sapore golosissimo farciti con marmellata e panna acida andiamo subito a vedere come si preparano ecco gli ingredienti che occorrono per preparare gli scones potete trovare maggiori informazioni giù nell'info box oppure in alto a destra nelle schede informative in una ciotola versate la farina aggiungete metà uovo precedentemente sbattuto ed iniziate ad amalgamare con una spatola aggiungete poi lo zucchero il latte tiepido l'olio di semi o il burro ed amalgamate per bene unite infine il lievito istantaneo per dolci e mescolate con le mani il tutto fino a comporre un impasto omogeneo stendete l'impasto con un mattarello in una sfoglia alta poco meno di un centimetro ricavate poi con un coppapasta tanti piccoli cerchi del diametro di circa 4 centimetri mescolate per bene i ritagli e stendeteli nuovamente per ricavare altri cerchi metteteli sconso su un tappeto in silicone oppure su carta forno spennellateli con mezzo uovo più un cucchiaio di latte sbattuti e cuoceteli a 190 gradi per 16-17 minuti devono diventare leggermente dorati in superficie non troppo nel frattempo preparate la crema unendo in un mini peamer o in un frullatore la marmellata e la creme fraiche o panna acida mescolate il tutto fino a creare una crema omogenea che lascerete per un quarto d'ora in freezer ad addensare quando gli scons sono pronti lasciateli raffreddare in una gratella e poi divideteli a metà come dei panini e farciteli con la crema alla marmellata che avrete preparato precedentemente buonissimi ragazzi provateli e non ve ne pentirete piaceranno tantissimo sia a voi che ai vostri bambini mi raccomando ragazzi se vi è piaciuta la ricetta regalatemi tantissimi mi piace per far crescere questo canale e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video se siete già iscritti attivate la campanella perché così potete vedere tutte le notifiche dei video appena li realizzo io vi ringrazio sempre per il vostro affetto vi invito a seguirmi anche su www.lericestedellamorevero.com e sui social facebook, twitter, instagram e pinterest un bacione a tutti ciao iscriviti al canale